5 cocciglia boh non lo so dove lo fanno comunque dove si vestono tipo un po così I don't know bene una be una mappa bella dopo l'altra proprio e c'è anche freddy bene meglio dai si bellissimo proprio alla grande io c'ho la chiave ricordatevi si se non muoio prima volentieri volentieri scala fammi vedere il portachiavi non sei te ok c'ha rovina mamma mia che non mi ha visto freddy proprio comunque le guardiane della strada quelle che ho visto io sono diverse dalla cape ad ogni modo non sono così stiloso a prescindere se mi sono mimetizzato proprio a livelli infimi ottimo beh i capelli comunque assomiglia a darli queen faccio un totem perché in sti giorni non si sa mai dato che l'ho visto l'ho capa ancora oppala vaffanculo ci sono io a salvarla ok ha messo tante chiazze in zero oddio per un pelo che mi scoppiava al zero io ne sto facendo una all'uscita penso che gli piace il tunneling dal nostro amico se non mi sono di scama lo salgo io destructor e invece sono io sono io cazzo sono io destructor oh qua c'è un totem ok in quella zona lì è strano che non mi ha messo 6.000 bolle di sapone è l'azziso il totem no figurati e lì ho andato via no sta seguendo lui arrivo slag no no vieni 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 Cazzo, vai fuori dai coglioni Mi devo svegliare Ah, mi ce l'hai segnato tu? Sì, sì Ma cazzo è il gem? Uno era quello all'uscita, stavo facendo Non ce l'ho più io, dietro Topi di merda Su qua c'ho vocazione Fa un culo Probabilmente Bene Tu dove sei? Io sono al primo piano, mi sto curando Ok Primo gancio quello Posso vado a salvarlo Quello è il primo già fatto di Zen, mi sa Sì Sì, l'ha fatto fatata Ok A presto. Tunnela sto tizio un po'. Chi mi spama l'emodicone di plastica? Non l'ho mai vista. Ecco. Eccola. Vuole perdertela spammare. Arrilla. Ce l'ha con me, tira su patata. Ok. Eh, l'ha preso. Ah, lo so. Eh, ma c'aveva il desizing. I punti canalo. Sarebbe il ventaglio di Kitana con scritto no. Su mi sa che c'è anche patata. Eh, scusa patata, ma... Non lo sapevo. Porca troia che viene qua, eh. Sarebbe il ventaglio di pernilare e guida. Sarebbe il ventaglio di pota… Ceci qua e guida dicupi. Sarebbe il ventaglio di La probabilmente si ha trovato più di sicuro e come ha fatto a prendermi ha sfiorato la porta vabbè figa ma non m'avevo appreso però a primo cazzo è l'entrata di questo di qua eccoli ci curiamo? no no volevo fare il job cioè se vuoi tu curati si 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 un pochino l'ho preso proprio con l'unghia quella rifatta dai ti curo vieni qua che ti curo tutta rovinash che ho piato mi sa si ma non è una tragedia bene mel benissimo benissimo questo ho fatto parca di quella puttana ho sbagliato il test dio riusci ad andare a salvarla si vado io madonna se mi vedevo vado io vado io ok perché è sulla mia traiettoria sto stronzo ho trovato la botola ho trovato la botola dove sei? allora dove ci sono le scale? ok ti vedo ti vedo visto? ok patata venga qua ci sono le scale per salire? si eccola eccola qua venghi patata cazzo l'ha preso è morto no cazzo apri apri la botola sposta te mi partiva cura basta oh due belle mappe di fila proprio e via prima parte di sfida fatta papà e via no un evo